Buongiorno, oggi siamo qui con la professoressa Rosemary Hain, docente presso l'Università La Sapienza di Roma di anatomia umana. Buongiorno, sono Rosemary Hain, mi occupo di anatomia umana, sono professora aggregato e ricercatrice. Il mio principale interesse è la microscopia elettronica, però la mia passione è sicuramente la Medical Humanity, in particolare l'arte, di cui anche ho una pagina su social media. Professoressa, com'è cambiato lo studio dell'anatomia nel 400 e nel 500? Veramente è stato un periodo molto ricco, si può dire anche rivoluzionario dal punto di vista intellettuale e culturale. Le persone di ogni genere hanno cominciato a viaggiare, hanno cominciato a riscoprire nuovi continenti, portavano con sé anche un loro background culturale, ciò vuol dire non soltanto delle merce nuove, dei frutti nuovi, ma anche dei libri. Quindi c'è la riscoperta della tradizione classica, filologica, dei testi classici. E su questo l'Italia ha avuto un ruolo preponderante, tanto è che Venezia, Padova, Bologna, Firenze e Roma, sono stati i centri dove è partito questo studio nuovo dell'anatomia, basato sulla scoperta dei cadaveri, basati sui testi classici, ma con una nuova inventiva. Qual è stato l'apporto di Vesal con la sua fabbrica e le sue tabule anatomiche allo studio della ricerca dell'anatomia? Vesalio veramente ha dato un'impronta veramente importante. Già come libro dal frontispizio dove lo stesso Vesalio ha voluto mettersi alla prova, facendo una propria disessione, cioè non era soltanto il medico che stava dall'alto della catedra a indicare al barbieri cosa si stava a fare la decisione. Era lui stesso con le proprie mani che non solo si limitava ad aprire i corpi ma a scoprire. Non si limitava soltanto ad applicare i concetti dei libri di testo classici come era la scuola di Galeno, Aristotelica o di Avicenna, ma ne metteva anche di suo. Inoltre era un'epoca di crescita anche industriale, per cui siamo di fronte a una riproduzione più industriale delle immagini, una riproduzione meccanica, ecco meglio dire. Non era soltanto un testo ma si potevano anche copiare. Sono dei disegni, ma dei disegni che veramente sono delle opere d'arte. L'anatomia vista da un altro punto di vista con diverse prospettive, non soltanto le posizioni classiche. E quindi penso che Vesaglio sta diciamo tra il top della rappresentazione di quello che è la figura umana, sia maschile che femminile. Qualcuno prima di Leonardo aveva sezionato cadaveri umani? Sicuramente da un punto di vista anatomico ci saranno state molte persone che hanno fatto dissezioni umane dall'epoca delle caverne, penso io anche per curiosità. Però da un punto di vista anatomico è da ricordare nel 1300 che c'è stato Mondino da Luzzi a Bologna che ha segnato veramente quello che è la dissezione. Mondino rappresenta questa dissezione classica molto rigida per così dirlo, dove il medico, la persona che ha le conoscenze, sul corpo umano si trovano in alto al resto, si trovano su una catedra e in basso quindi si trovano i discenti che erano pochi all'epoca, maggiormente erano degli uomini anziché femmine. C'era un tavolaccio dove c'era questo corpo e c'era di solito il barbiere o il macellaio che indicavano quindi e seguivano quello che il medico in quel momento le stava indicando di fare. Quindi con un coltellaccio si aprivano i corpi. Questa un po' impronta di quello che la scuola anatomica nata a Bologna nel 1300 poi perdurò per oltre 200 anni, per cui veramente è lì dove sono nate le scuole di dissezione anatomica. In che cosa consiste l'innovativo metodo introdotto da Leonardo da Vinci di iniettare dei liquidi solidificabili all'interno dei corpi dei suoi pazienti per visualizzare al meglio le porzioni anatomiche da studiare? Leonardo nella sua genialità ha innovato in tantissimi campi. Leonardo era un artista, uno scultore, un pittore, un ingegnere, un architetto. Questa grande curiosità lui non dormiva, quindi le notti se le passava cercando di andare alla ricerca di corpi che a volte erano messi a disposizione, il giustiziato di turno, il medico poteva entrare ad aprirlo. E Leonardo cercava di guardare e guardava tutto quello che poteva. Inoltre inventava delle tecniche e questo è molto curioso, interessante per poter studiare l'encefalo, dove lui andava alla ricerca della sede dell'anima, iniettava delle sostanze che poi solidificandosi lasciavano per così dire la replica, l'impronta, in questo caso dell'encefalo, le circonvoluzioni vertebrali, cerebrali, i ventricoli cerebrali. Era un appassionato, un curioso. Inoltre con questa tecnica lui poteva notare se c'erano degli errori nei testi antichi. Quindi lui ci ha insegnato finora, ci sono disegni di Leonardo praticamente perfetti se non per qualsiasi piccolo errore. Per quale motivo il San Gerolimo di Leonardo da Vinci è considerata l'opera più significativa dal punto di vista dello studio dell'anatomia? Il San Gerolimo di Leonardo è un'opera inconclusa e questo uno potrebbe pensare allora non è di molto interesse, no, anzi è ancora di più un motivo di interesse. Il fatto che Leonardo non si sa per quale motivo, non si sa chi l'ha commissionato, non si sa dove è stato veramente seguito, se a Firenze o a Roma, l'anno stesso di esecuzione, non si sa se c'è stato, quindi nel 1480, 82, 81. È un'opera monocromatica, per cui è sul colore ocra, sul marrone, ed ha una tecnica molto particolare che è il diffuso non definito, anche con una tecnica ulteriormente particolare che è il finger painting, quindi lui dipingeva con i polpastrelli e quindi diffondendo, no, faceva delle ombre che creavano anche un volume. Il San Gerolimo, al di là di rappresentare un santo, uno dei santi importanti, uno dei patroni della chiesa, per così dirlo, è caratteristico dal momento che non è rappresentato con la barba, che è la cosa che normalmente uno vede con San Gerolimo. Poi è un San Gerolimo sofferente, è un San Gerolimo in espiazione, lui è quasi inginocchiato con la gamba protesa e ha anche un braccio, il braccio destro in estensione, dove ha un sasso nella mano con il quale si percoteva il petto, no, come un modo per espiare i peccati. Lui era una sceta, era un'eremita, lui cercava sempre di allontanarsi dai peccati della carne, che lui diceva, è per questo che è rappresentato in un deserto e che è deserto migliore di quello che ha disegnato Leonardo, con delle rocce particolari, che sono delle rocce appuntita, che vanno a rappresentare Cristo stesso, come San Gerolimo in una lettera a un amico spiega. Cioè è la stessa immagine del peccato che va a incontrarsi, a scontrarsi con queste rocce appuntite. Poi ci sono delle curiosità in entrambi i lati del quadro, che tra l'altro è un tavolo in noce, fatto a tempera d'olio. Ci sono degli abbozzi di chiese, che da una parte si pensa che sia quella di Betlem, della natività di Betlem, quello sulla destra, in fondo, dove alla fine lui è morto, lui è morto a Betlem. Mentre sulla sinistra c'è un altro abbozzo che si pensa che sia Santa Maria Novella di Firenze. Un'altra curiosità è il modo come Leonardo rappresenta l'anatomia stessa, i muscoli, i tendini in tensione, questa curvatura della schiena, questa torsione della testa verso un lato, che fa vedere, diciamo, quanto è scavato dal digiuno eccessivo il volto di San Gerolimo. E poi davanti, in primo piano, abbiamo un leone. Questo leone che sembra che stia ruggendo, ma è placidamente accovacciando di fronte al santo. Perché la leggenda dice che San Gerolimo ha tolto una spina da una zampa del leone che impediva di andare avanti. E quindi questo leone, in simbolo di ringraziamento, l'accompagnò per tutta la vita. Per cui è un'opera sicuramente piena di curiosità e di mistero, come tante altre opere del Leonardo, che tra l'altro ricorda un po' anche l'opera della Madonna sulle rocce. Grazie mille. Grazie mille.